Pronti via, intervista doppia, le Iene, nome? Mariella Siana Cognome? Mariella Amore Età? 18 Segno zodiacale Sono Sagittario Fumi? Sì Ti fai le canne? No, a voi Che stanza? La prima volta Non me la ricordo Mi fa per una volta, non ti metti Oh! Quante volte a settimana lo fai? Sì, la comprensione di tigolo Ti piace? Sì Tiziana Farlo? Sì Tiziana La prima volta Quanto conta per te la lunghezza? Sette Casi Durata 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 Proprio attiva a rispondere No, non è un buco Un assessore Durata Durata Igiene Soldi Dateci una Sì Lezione di vita Dateci una Lezione di vita Arietti E che stessa? Cambia testa, cambia testa e cambia testa No, mi raccomando Sto sotto Un difetto di Arietti Al culo piccolo Un difetto giovon russo Al culo pro Un pregio Un pregio di Arietti Un pregio di Arietti Un pregio di amoruso La vuoi bene? No Sì Eh, vabbè Concludiamo questa intervista Datevi un abbraccio Togli quello Poi Ciao